La cortina d'acciaio La scuola è la grande iniziativa degli ultimi tempi della rivista. Ma allora Lucio, partiamo subito dal titolo. La cortina d'acciaio è un chiaro riferimento alla cortina di ferro della guerra fredda che adesso qui diventa più dura? Beh sì, diciamo tra il metallo-ferro e la lega-acciaio passa qualche differenza in termini di robustezza e durezza. Quello che vogliamo evocare con questo titolo è il fatto che comunque finisca questa guerra. Sembra proprio che la divisione tra la parte interna più o meno allo spazio di influenza americana in Europa e la Russia saranno divise da una barriera molto più rigida che in passato. E soprattutto questa barriera vedrà nelle due parti, nei due schieramenti, delle forze che si capiscono poco o vogliono capirsi ancora di meno. Questo avrà degli impatti inevitabili anche sul nostro paese. E allora Federico, tu in questo volume scrivi proprio un articolo sugli Stati Uniti e proprio vogliamo cercare oggi di capire meglio qual è la posizione degli Stati Uniti. L'abbiamo detto spesso ovviamente, è una posizione anche variegata, nel senso che sappiamo che negli apparati americani ci sono varie posizioni. E allora, quali sono queste posizioni nell'apparato americano? Tanto bisogna misurarle nel tempo, nel senso che le posizioni dell'America, gli obiettivi dell'America nella guerra ad Ucraina sono cambiati nel corso del conflitto. All'inizio, ancora prima del conflitto stesso, gli americani si sarebbero accontentati anche di difendere Leopoli, l'Ucraina occidentale, si preparavano a evacuare Zelensky, sostanzialmente erano pronti a convivere anche con una maggior parte d'Ucraina occupata dai russi, proprio perché in un certo senso sopravvalutavano anche probabilmente le capacità dell'esercito russo. Oggi invece gli americani ci spiegano che vogliono infliggere alla Russia una sconfitta decisiva e vogliono aiutare gli ucraini a riprendere più territorio possibile. Ora viene fuori la domanda che dici giustamente tu, cioè fin dove si vogliono spingere? Qual è il punto di caduta di questa controoffensiva americana? Nel mio articolo sostengo che è molto difficile pensare che gli americani possano davvero volere che gli ucraini riprendano con le armi la Crimea e il Donbass, cioè che possano davvero arrivare fino in fondo. E questo per tutta una serie di motivi che puntano anche alle divisioni all'interno degli apparati a cui accennavi tu. Non vanno esagerate, secondo me, queste divisioni interne allo Stato americano, però sono abbastanza visibili perché il Pentagono vorrebbe mandare più armi possibili agli ucraini e si prepara a una guerra protratta, si prepara anche a sostenere eventualmente per anni uno scontro con la Russia perché? Perché il suo obiettivo è quello di indebolire in maniera decisiva la potenza militare della Russia che è sostanzialmente la principale risorsa di potenza di Mosca. Mentre forse l'intelligence ha una posizione diversa, più cauta. I vertici dell'intelligence spiegano già che la guerra è in una fase di logoramento e dunque che si sta andando verso uno stallo. Ovviamente i successi tattici di questi giorni dei russi sembrano smentirlo, ma vista in una prospettiva più ampia questo suggerisce uno stallo e quindi si può riaprire una finestra per il negoziato. In tutto questo si inserisce poi la posizione della presidenza di Biden che tiene soprattutto a evitare di entrare in guerra con la Russia e quindi vuole ritardare o vuole dare dei limiti alle armi da fornire agli ucraini. Quindi in sostanza gli mette dei freni, dei lacci. L'unica cosa che può veramente sconfiggere sul campo la Russia, concludo in questo modo l'articolo, è probabilmente la Russia stessa. Cioè solo un cedimento del fronte militare o interno della Russia può davvero ricacciare indietro Mosca e il suo esercito. Allora intanto voglio mostrare questa carta anti-Europa all'impero europeo dell'America dove vediamo appunto l'ucio alle posizioni, insomma si può definire area di influenza, noi la chiamiamo impero europeo dell'America perché forse è più di un'area di influenza direi. Comunque mentre guardiamo questa carta ti chiedo, e ricordo anche, ti chiedo dov'è la vittoria per gli americani, ricordo che c'è un approfondimento di Orietta Moscatelli che trovate sul canale con questo titolo Dov'è la vittoria? Che trovo molto bello dal punto di vista russo. L'hai fatto te il titolo, per questo ti piace? È una proposta di Orietta, devo dire una proposta di Orietta che però sono accosto con piacere. E quindi ti chiedo, dal punto di vista americano, dov'è la vittoria? Forse non lo sanno bene nemmeno loro, salvo in un punto che accennava adesso Federico, cioè da questa guerra la Russia deve uscire molto indebolita. Ma non tanto per la Russia in quanto tale, quanto per la Russia come partner della Cina, perché gli americani ovviamente non sono così concentrati sull'Ucraina e sulla Russia, sono concentrati sulla sfida del secolo che è quella con la Cina, secondo loro. Quindi quello che loro vogliono ottenere da questa guerra è un indebolimento del sistema sino-russo che è nato, ricordiamolo, nel 2014 quando Putin, vistosi sconfitto a Kiev, ha deciso di andare a Est e di chiedere questa sorta di intesa che adesso l'hanno definita senza limiti, ma che di limiti ne ha parecchio, in modo da costruire uno schieramento russo-cinese che anche se non perfettamente sincronico serve per manipolarsi reciprocamente nei confronti dell'America per contare di più. Quindi l'operazione americana, alla fine delle fini, deve allontanare i russi dai cinesi e soprattutto nella misura in cui, importante, i russi e i cinesi resteranno comunque insieme, la Russia deve diventare più un problema che una risorsa per la Cina. Allora Federico, invece questa carta, come cambia la posizione degli Stati Uniti in Europa con questa guerra? Abbiamo visto, abbiamo detto, abbiamo due Europe sostanzialmente, una dell'est e una dell'ovest, quindi questa guerra rafforza le posizioni americane in Europa? In una certa misura sicuramente, rende più omogenea la NATO e l'Unione Europea, la percezione di minaccia della Russia in un certo senso compatta gli europei, ma in un certo senso contribuisce anche a manifestare le loro differenze. Per esempio, prendiamo proprio il punto di caduta della guerra per gli europei. C'è una posizione europea occidentale, Italia, Francia, Germania, eccetera, secondo cui non bisogna del tutto estromettere la Russia alla fine della guerra dal sistema europeo, non va isolata completamente. Questa è molto diversa dalla posizione, invece, degli europei orientali, secondo cui non bisogna fermarsi a Crimea e Donbass, ma bisogna andare a Mosca. Cioè, il regime di Putin, non Putin, ma il regime di Putin deve cadere. La posizione americana non è né l'una né l'altra, ma entrambe. In che senso? Che agli Stati Uniti fa comodo mantenere una certa ambiguità sul punto di caduta della guerra, cioè su fin dove si deve arrivare in Ucraina. Perché? Intanto per tenere assieme la sfera di influenza europea. Non ci si può schierare completamente con l'uno o con l'altra parte. Per un motivo molto semplice. Questa guerra si fa proprio perché gli Stati Uniti hanno bisogno di mantenere la compattezza della loro influenza sul nostro continente. Dunque, gli Stati Uniti sembrano avere una posizione intermedia, cioè sosteniamo gli Ucraini adeguando il nostro aiuto militare all'andamento dei combattimenti sul campo, ma non consentiamo loro di sognare impossibili vittorie concrete sul campo. La Crimea e il Donbass si potranno riprendere, suggeriscono gli americani, ma eventualmente in fasi negoziali. Persino il Pentagono dice che il loro obiettivo è mettere gli Ucraini nelle condizioni di dettare i termini del rapporto con la Russia nei prossimi anni. Quindi, appunto, di riprendersi eventualmente in fase negoziale Crimea e Donbass. Sono obiettivi molto alti già questi, però ci segnalano che appunto si mantiene una certa ambiguità. La quarta posizione poi in questo panorama è quella probabilmente dei britannici, che invece sono sempre un passo avanti rispetto agli americani, ma non suggeriscono di andare a Mosca come polacchi e baltici. Per esempio, Johnson dice che la Crimea deve essere ripresa anche manumilitari. Un suo membro del governo dice che non ci sono problemi se le armi britanniche fornite a Kiev vengono usate per colpire in Russia. Ecco, questa è una posizione leggermente diversa da quella americana, ma che non è completamente quella degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti appunto non hanno bisogno, io credo, di ottenere una vittoria completa, hanno bisogno soprattutto di invertire il calcolo dei rischi di Putin. Putin è ancora convinto di poter vincere questa guerra e questo stanno cercando di cambiare gli americani in questa fase. Allora, questa è la carta intanto delle faglie europee nella guerra d'Ucraina, dove vediamo appunto in particolare due Europe, ma insomma ce ne sono di più. Vedete, evidenziate in maniera particolare come potenza in riarmo la Germania, che occupa uno spazio importante in questo volume, perché prima di questa guerra c'era una tensione, un confronto tra Germania e gli Stati Uniti, gli Stati Uniti avevano paura che la Germania diventasse troppo forte in Europa o addirittura si avvicinasse troppo alla Russia. Ora, come sono cambiate queste cose e come il riarmo tedesco può cambiare questa... Il riarmo tedesco va visto in una prospettiva storica e proiettato nel futuro. Da quando hanno perso la seconda guerra mondiale i tedeschi hanno ovviamente tenuto molto basso non solamente il livello militare, in particolare dopo la guerra fredda, quando non c'era più bisogno di avere delle forze corazzate pronte a fermare i sovietici. La Bundeswehr è veramente ai piedi di Cristo. Ci sono i paracadutisti che non possono fare i lanci perché non hanno l'elmo, insomma siamo a questi livelli, i sommergibili che non partono perché mancano i marinai. Quindi i cento famosi miliardi che Scholz ha promesso di mettere, adesso vedremo come e quando, come plus per la Bundeswehr sono il minimo vitale per dare alle forze armate tedesche una qualche credibilità. Ma quello che è più importante, sì certo l'aspetto materiale è importante, ma è l'aspetto culturale. Cioè la Germania sta ricominciando a pensarsi in termini strategici. Insomma chi siamo, che cosa possiamo volere, dove vogliamo arrivare, con chi, contro chi. Questo prima non veniva fatto, adesso fa parte del dibattito pubblico. Si parla anche di usare strumenti come la bomba atomica, cosa che fino a qualche anno fa era impensabile. Tutto questo segnala il tentativo tedesco di recuperare una sua dimensione propria di potenza a tutto tondo. Cioè non più solamente potenza economica, commerciale, se vogliamo anche culturale, ma potenza anche militare. Ora, quello che è più importante in questa fase è la rilegittimazione della Bundeswehr, delle forze armate tedesche presso l'opinione pubblica, che non è una cosa così automatica, tanto è vero che in Germania ci sono anche molte voci che cercano di diluire il discorso di Scholz, del governo, in vari campi, a sinistra, un po' di verdi, eccetera, dicendo beh, non esageriamo, vedremo che cosa produrrà materialmente. Certamente da un punto di vista culturale una svolta. Federico, allora, completiamo questo quadro. Io anticipo che faremo una puntata su Svezia e Finlandia in particolare. Ci richiediamo proprio a quei due paesi, no? Ma qui, in questo volume, parliamo anche della Nato-Baltica, no? Stiamo aspettando questo vertice di giugno, di fine giugno a Madrid della Nato per capire, appunto, l'ingresso di Svezia e Finlandia, salvo veti di Erdogan minacciati o contrattati, insomma, vedremo quello che succederà. Però ecco, qui in Europa si sposta il quadrante in maniera decisiva, no? Sì, aumenta l'omogeneità tra i paesi che si affacciano sul Baltico, quindi la Polonia, le tre repubbliche baltiche, i tre scandinavi e la Finlandia. Si crea un gruppo piuttosto omogeneo che ha la stessa percezione della minaccia russa, molto diversa da quella degli europei occidentali, si aggiungono potenze tali, che sono tali, cioè che hanno della potenza bellica da spendere, Svezia e Finlandia hanno forze armate nettamente migliori di quelle della Germania, per esempio. E a questo si unisce anche la volontà di potenza che c'è sempre stata in Europa, ma che adesso torna prepotentemente ad affacciarsi, della Polonia. la Polonia si riscopre in sincronia con il tempo che sta vivendo sfortunatamente l'Europa, c'è un tempo di guerra. In una Europa che entra in una logica bellica, la Polonia ha migliori mezzi per fare valere le proprie ambizioni, rispetto invece a un'Europa che ragionava in logica puramente economicistica come è stato fino al pre-24 febbraio, in cui non a caso la Polonia aveva anche seri problemi relazionali con gli europei dell'Ovest. Tutto questo è in parte nell'interesse americano perché si cementifica un gruppo di collaborazione più spendibile che fa più cose, che è disposto ad assumersi delle responsabilità a patto però che non porti troppo vicino la Nato e l'alleanza a uno scontro stavolta diretto con la Russia. Quindi la presenza americana in Europa è anche volta a quietare questi oltransismi baltici. Ricordo anche la puntata che abbiamo fatto sulle basi americane che abbiamo aggiornato con la guerra. Lucio, continuiamo a medesimarci negli Stati Uniti d'America. Voglio ricordare per chi poi non è abituato diciamo o non conosce magari benissimo l'IMES che come tu insegni alla scuola l'analisi geopolitica richiede quello di medesimarsi nei soggetti di cui si parla. Quindi a volte noi ci medesimiamo nelle posizioni russe a volte in quelle americane ovviamente molti non lo capiscono e quindi di volta in volta ci accusano di essere più russi o più americani chiudiamo la parentesi continuiamo a medesimarci nel soggetto americano sul campo in Ucraina alla fine per gli americani che questo confine territoriale sia spostato più o meno avanti quanto conta? Abbastanza indifferente l'importante è che rimanga un cuneo ucraino più o meno grande all'interno della sfera russa o sbaglio? Idealmente forse la cosa migliore indipendentemente da dove passerà il confine che comunque sarà un confine disputato provvisorio quello che interessa agli americani è che un forte contingente russo rimanga in Ucraina a affrontare la realtà di un dopo guerra che sarà comunque micidiale perché tenere ricostruire quantomeno parzialmente quello che hanno distrutto i russi gli ucraini la guerra è un'impresa da non so quante centinaia di miliardi di dollari perché da quelle parti si calcolano i dollari e non l'euro quindi più i russi sono costretti a spendere a spandere e a concentrarsi su qualcosa che per gli americani è assolutamente nemmeno secondario o terziario beh questo è un grosso vantaggio per gli americani significa distogliere una parte importante delle risorse militari e non solo russe su un fronte che all'america interessa molto poco ma che costringe alla russia di indebolirsi e di essere meno utile alla cina ripeto questo è il punto fondamentale perché lo scontro è fra americani e cinesi quanto ci riusciranno non lo so però certamente i russi si sono messi in una posizione molto difficile perché chiaramente non intendono mollare quello che hanno preso anzi tendono probabilmente a prendere parecchio di più quantomeno tutto il Donbass e questo quando sia comunque sia significa un impegno per il dopoguerra piuttosto micidiale se non lo fanno se quindi fanno dei passi indietro a quel punto è Putin il regime e poi infine anche lo Stato a essere messo in crisi in questo numero tra l'altro c'è un'intervista con Karaganov uno dei decani del pensiero strategico russo il quale dice esplicitamente stiamo discutendo nelle sedi più alte qui a Mosca il rischio di disintegrazione della federazione che è però quello che almeno agli americani con la testa sulle spalle fa anche un po' paura perché immaginare che la Russia arrivi fino al punto di rischiare di deragliare completamente e quindi 6.000 testate nucleari quante sono diventano senza padrone beh questo è un rischio per tutti quanti a cominciare ovviamente dall'America allora in conclusione concentriamoci un attimo allora sui Stati Uniti poi in altri aspetti del volume avremo altre puntate abbiamo parlato in passato del maestere americano dopo l'assalto al congresso la vicenda di Trump e così via allora secondo voi questa guerra come sta incidendo sul fronte interno americano anche in vista delle elezioni di Minterme beh interessante questo perché anche questo è ambivalente in che senso nel senso che l'aggressione russa all'Ucraina ha compattato inevitabilmente un'opinione pubblica che prima era spaccata se si diceva l'America si deve in qualche modo ritirare ridurre gli impegni mondiali eccetera eccetera la reazione popolare molto aggressiva nei confronti dell'aggressione russa ci svela che l'eccezionalismo americano comunque continua a sopravvivere ma con una tacca in meno una tacca anche abbastanza notevole cioè Trump va in giro mostrando t-shirt meglio russo che democratico alcuni commentatori inneggiano a Putin perché sta sbugiardando il grande satana che sarebbe l'impero degli Stati Uniti contrario all'idea di America che ha ancora una certa parte di popolazione statunitense quindi quello che si vuole dire è che rispetto alla guerra fredda in cui c'era un consenso nettamente granitico di opposizione e di russofobia anche adesso questa russofobia è meno spendibile forse anche per questo l'elite ha il potere la classe dirigente la usa anche con maggiore vemenza la usa anche proprio sbandierandola come modo per fare campagna politica in ogni caso al congresso è vero c'è una grossa grossissima maggioranza a favore della guerra anzi che va addirittura oltre gli obiettivi dichiarati dell'amministrazione il congresso se fosse per loro metterebbe a proscrizione Putin immediatamente c'è una risoluzione al congresso che si deve votare per dichiarare la Russia stato sponsor del terrorismo che è qualcosa di parecchio forte tuttavia questa granitica maggioranza al congresso potrebbe essere rosa perché ci sono candidati per elezioni di medio termine a cui facevi riferimento prima che dicono apertamente che a loro dell'Ucraina non interessa assolutamente nulla e questa è una citazione con le virgolette da J.D. Vance che è un signore anche piuttosto intelligente e interessante consiglio di leggere la sua Hillbilly Elegy che parla di una saga familiare di Scotch Irish fra Kentucky e Ohio da cui è stato anche tratto un film che si trova bruttissimo quello non guardatelo invece su Netflix invece questo signore è stato eletto in quota trumpiana ha ricevuto soldi e appoggi pubblici da parte di Trump ed è un'avanguardia di questa minoranza ma sempre meno minoranza all'interno della repubblicana fortemente nazionalista non isolazionista ma che è in favore probabilmente più di un impero americano dell'America di concentrarsi soprattutto prima sugli Stati Uniti a sanare il fronte interno e poi come terza priorità le prime due sono America America la terza è la Cina della Russia proprio a loro non importa assolutamente nulla Lucio allora chiedo anche a te sul fronte interno americano ma aggiungo e la Nato che a un certo punto sembrava qualche anno fa inutile soprattutto dal punto di vista americano torna ad avere un ruolo questo vertice di Madrid potrebbe essere un vertice storico che cambia un po' anche la storia della Nato la Nato ne esce abbastanza a pezzi nel senso che come si vede anche dalla carta che pubblichiamo di Nato ce ne sono parecchie che cosa posso accomunare la posizione allora intanto la carta è questa le faglie europee nella guerra d'Ucraina che cosa posso accomunare la posizione polacca quella turca la posizione italiana quella lettone la posizione inglese quella francese la posizione tedesca che tra l'altro è anche piuttosto vaga insomma il punto non è tanto la posizione quello che emerge da questa guerra è una profonda differenza di interessi che sono molto più profondi delle idee delle contingenze gli interessi di fondo di questi paesi non sono affatto collimanti in alcuni casi tendono a contrapporsi e questo rende problematico per il sovrano americano che appunto come diceva prima Federico della Russia e dell'Ucraina si interessa fino a un certo punto tenere insieme quello che è l'elemento fondamentale della sua proiezione imperiale mondiale cioè l'Europa quello che forse preoccupa almeno gli americani più consapevoli che guardano un pochino più in là del loro naso è la tenuta di questo impero che hanno conquistato impero informale impero benevolente ma comunque impero che hanno conquistato dopo la seconda guerra mondiale di fronte a questo sparpagliamento che l'attacco russo all'Ucraina ha reso evidente in questa carta però vorrei anche segnalare quello che abbiamo chiamato Euroquod cioè il sistema A4 che ancora non è sistematico ma che si sta strutturando tra Roma, Parigi, Berlino e Madrid è interessante notare due cose la prima è che per la prima volta nella storia repubblicana almeno a mia memoria in una guerra di questo rilievo l'Italia prende una posizione cioè prende una posizione netta a favore del dialogo del cercare subito di finire la guerra allineandosi con la Francia in maniera esplicita con la Germania e in qualche misura con la Spagna è interessante da un punto di vista anche meramente diplomatico constatare come negli ultimi mesi ci sia stato prima l'accordo bilaterale Francia-Italia anche questa è una novità assoluta noi di accordi bilaterali non l'abbiamo mai fatti che pogge evidentemente anche sullo storico trattato franco-tedesco poi c'è la richiesta tedesca di fare un trattato simile con l'Italia e la richiesta spagnola idem con l'Italia e anche con la Francia quindi si sta delineando e qui sono gli interessi che contano si sta delineando in Europa occidentale uno schieramento informale ma effettivo che pesa all'interno della Nato e dell'Unione Europea tra quattro paesi che proprio non sono gli ultimi della classe e che sono storicamente i paesi che hanno dato vita e forza all'Unione Europea delle origini quando eravamo ancora alla fine della seconda guerra mondiale e agli esordi dell'europeismo il collante scusa il collante della Nato probabilmente dal punto di vista degli europei se vogliamo trovare un minimo comodenominatore è la paura di un'evacuazione americana cioè la paura che la dissuasione americana avendo fallito nel caso della guerra d'Ucraina possa aprire a un graduale disimpegno americano dal nostro paese è il motivo per cui sono entrati la Svezia e la Finlandia anche i paesi che più dichiaratamente vogliono un esercito europeo penso alla Francia comunque non lo immaginano mai come reale alternativa a una presenza americana sul sul continente anche questo euroquod può funzionare e funzionerà io penso soprattutto come feudo all'interno della sfera di influenza americana senza sognare fughe di razzanti anche perché a quel punto emergerebbero davvero delle incompatibilità di fondo che probabilmente l'America con la sua presenza contribuisce a tenere assieme io su questo ho qualche dubbio nel senso che sicuramente noi la pensiamo così sui francesi sui tedeschi ho qualche dubbio specialmente sui tedeschi nel senso che non credo che questo riarmo tedesco faccia molto piacere all'America e non credo nemmeno che la Nato possa guadagnarne qualcosa guardando la cosa in prospettiva si prospetta di nuovo l'idea di una Germania potenza centrale di una Germania che sta un po' di qua un po' di là di una Germania che riscopre le sue antiche filiazioni in Russia e viceversa e poi una Germania divisa in due perché la Germania dell'Est in questa guerra si è ancora confermata Germania dell'Est prendo solo un esempio si è molto parlato di embargo sul petrolio come mostriamo in una carta di questo numero il sistema petrolifero dell'ex DEDER della Germania orientale è sconnesso dal sistema petrolifero della Germania occidentale tanto per dirne una quindi l'embargo lo pagano i tedeschi dell'Est esattamente e quindi l'embargo poi bisogna vedere fino a che punto sarà perché già l'embargo sulle petroliere è una cosa semicomica insomma l'embargo vero sarebbe stato sui tubi ma a quel punto Orban ci si è messo di mezzo anche perché lui lo sbucco al mare non c'è là e c'è le raffinerie sull'oledotto Drujba che sono piuttosto importanti ma comunque questo per dire che ci sono io credo all'interno dello spazio europeo tra le ex grandi potenze europee in particolare la Germania e la Francia delle tentazioni che dal punto di vista atlantico classico sarebbero definite paraneutraliste vedremo vedremo i nuovi equilibri intanto volevo mostrare la carta appunto la spartizione della Germania perché come al solito in questo volume c'è ampio spazio all'analisi storica parleremo sicuramente di quello come cambierà l'Europa dopo questa guerra sperando che insomma finisca o durante questa guerra se i tempi si allungheranno grazie a Lucio Caracciolo grazie a Federico Petroni e alla prossima grazie a te a presto grazie a tutti